benvenuti benvenuti se avete bisogno di un passaggio col mio taxi vi porto dove volete ma a barcellola in spagna perché perché il taxi ce l'ho ok allora commento le frecce ok in su abbiamo fatto benzina credo si avevamo concluso col benzinaro allora vediamo un attimo l'officina devo stare attento perché c'è il velox andiamo piano se c'è il velox pedone andiamo mentre tra l'ora l'officina lì eh la vedo già ma sei serio che devo far tutta tutto quel coso lì allora qui è il bordo mappa ok è scoperto e io prendo un X per entrare nella oficina ma dai officina poi ok riparazione ma quanti soldi ho l'ho riparata tutta auto qui puoi vedere auto in tuo possesso adesso di vendita 6.000 però mi piaceva questa qua parti posso la cosa però personalizza non male no mi piace allora al lettore possiamo metterlo ok mi piacciono questi neri riposo per cosa ok aiuto ok forte allora vediamo se c'è qualcuno qua da prendere si io direi proprio di si io direi proprio qua ah ma quello è che barba oh sto andando stai calmo bello subito il passaggio quel rosso o non si vedeva lì allora allora da qua mi piace mi piace un bel po' da 5 sempre caspita allora frena va sono pazzi sono dei pazzi oh ce l'ha con me questo qui trafico boy oh ce l'ha con me questo è un semáforo oh e vai che stiamo lavorando e muoviti come faccio la ah così proprio vabbè ok quindi adesso che siamo in mezzo potrei andare anche qua eh allora lì è il semáforo ma se io vado di qua lo prego forza se io vado di qua il semáforo non ci sta piano questo consuma un sacco di benzo non ci sta Grazie a tutti. No, raga, l'abbiamo appena sistemata. Per fortuna che c'è il meccanico. Us meccaniques. Fermi di voi. Allora, non fatelo voi, eh, questa cosa qui. Quindi sto facendo questo perché se no stiamo qua. Un'ora. Pneumatico a terra? No. Allora, adesso è tutto a posto. Devo stare molto, molto attento. Allora, portiamo questo tipo qui che tanto siamo di qua. Ma perché devo fare il giro di... E quando... Via, via che verde. E' lui? E' lui? Ok, bravo. Non credo che era lui, però fa niente. Salve. Sto posto? No. 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 Grazie a tutti. 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 Take care. Grazie a tutti. 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 Far west. Grazie a tutti. Allora. Dove aspetta. 60 metri. e siamo arrivati. di qua. aspetta. ma... che se io faccia... aspetta... aspetta... si... 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 non... si... 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 driving around Barcelona oh I'm loving it there's just so much to see in this city what makes driving here so special for you definitely the people I love learning about their experiences in this city is there anything you don't like about driving here the traffic can be quite heavy at times and the constant honking doesn't make it any easier that's true I've had trouble with that too so I love it so I love it so I love it so it's Grazie a tutti. 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 Buongiorno, buongiorno, buongiorno signore, dove la portiamo di bello? Buongiorno, 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 buongiorno. è un cliente. allora, è verde? Ma dai! Grazie a tutti! 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 Abbiamo... Grazie a tutti! 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 ! 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